Le 14 in punto, aeroporto di Ciampino a Roma. Appara l'aereo privato del vivo del rock più famoso del mondo. Michael Jackson arriva da Parigi. Il look è quello di sempre, cappotto nero, unico vezzo, una stella di metallo e una bandana fosforescente. Cappello nero di feltro, occhi nascosti da grandi occhiali scuri. Super scortato non solo dai suoi gorilla, ma anche da un servizio d'ordine fornito dalla polizia. Viaggia in incognito Michael Jackson, alle 15 ha un appuntamento insolito. Deve deporre al processo per plagio in cui è imputato. Avrebbe copiato una canzone di Albano. Nessuno sa, neanche gli avvocati di Albano, che oggi Jackson sarà presente al processo. Alle 14.45 è l'arrivo al palazzo di giustizia. Nel cortile della procura sono schierati almeno 70 tra poliziotti e carabinieri. La rock star fa il suo ingresso in pretura. Un piano di scale ed entra nell'aula numero 5. Fa sapere attraverso i suoi legali che non vuole essere ripreso durante l'interrogatorio. Poi si toglie cappello, occhiali e cappotto. Comincia con una dichiarazione spontanea. Sentiamola. In primo luogo mi scuso per non essere venuto prima e poi per qualunque disturbo che posso avere arrecato. Sono un cantante e un ballerino e faccio il mestiere dell'intrattenitore e del cantautore. In tutta la mia vita non ho mai copiato nulla. Le accuse di Albano sono false. Poi comincia l'interrogatorio. Michael Jackson ascolta a serio le domande del pubblico ministero. Risponde secco e calmo. A tratti sorride. Ride addirittura quando il PM gli si rivolge in inglese. Racconta come è nata la sua canzone. L'interrogatorio dice di non aver mai sentito parlare di Albano e dei suoi cigni di Balacà finché non ha ricevuto notizia della denuncia. Quando parla di Albano lo definisce maestro. L'interrogatorio dura 50 minuti. Poi decisamente più disteso, Michael lascia la procura. Sono le 16.30. Tre quarti d'ora per attraversare Roma. Alle 17.15 è di nuovo a Ciampino. È molto più tranquillo e si vede. Sorride, saluta con la mano, non si copre il viso, non corre verso l'auto che lo porterà al suo aereo. Anzi, una volta a bordo del pulmino si mette persino a ridere. La presenza delle nostre telecamere a questo punto lo diverte. La prossima volta fa sapere, tornerò per cantare, spero.